Ciao a tutti, vi ricordo la festa del 22 settembre, quindi fra due giorni, siete invitati, visionate la pagina di Vivarte, ci sono tutte le indicazioni per raggiungere il posto che incontra da Bosca di 65, se volete portate da bere o quello che volete voi o soltanto alla presenza, se suonate qualche strumento, portate i vostri strumenti, perché l'intenzione è di divertirsi, di mangiare qualcosa, la griglia, pesce, carne, quello che c'è, quello che troverete, preparerò qualche pizza, qualcosa farò io e niente, quindi che dirvi, cercate di venire perché voglio festeggiare non solo Vivarte, ma tante belle situazioni che si sono venute a creare, compresa la lenta guarigione di mia mamma, ma comunque che c'è, quindi è il caso proprio di festeggiare. Ciao a tutti, Vivarte, c'è la pagina, c'è anche il gruppo aperto di Vivarte e c'è la mia pagina dove comunque vi aggiornerò, ok? Ciao!